Se gli uomini guardano il cielo, può capitare che gli spuntino le ali. Così amava ripetere spesso, citando Flaubert, Marida Recchi, donna d'impresa, colonna della rinascita economica italiana, cavaliere del lavoro, ma anche attivissima nel sociale, sempre d'aiuto per i più poveri e gli ammalati, con la sua eleganza, la sua cultura e l'umiltà che l'ha sempre accompagnata. Marida Recchi non c'è più, ci ha lasciati all'età di 103 anni e sembra quasi incredibile dirlo perché fino agli ultimi giorni ha vissuto in modo attivo ed energico, vicina ai suoi cari e sempre con il sorriso sulle labbra. Nata l'11 novembre 1917, il giorno della disfatta di Caporetto, come spesso ricordava nelle interviste, ha attraversato un secolo di storia dell'economia, della cultura e della politica di Torino e dell'Italia. Nel 1941, dopo un periodo di studi in Germania, aveva sposato Giuseppe Recchi, titolare dell'omonima impresa di costruzioni, nel tempo divenuta una delle più importanti realtà italiane, grazie alla realizzazione di opere stradali, idroelettriche, portuali, civili in tutto il mondo, una su tutte l'autostrada del sole. Marida Recchi, nominata Cavaliere del Lavoro, ebbe sempre un ruolo di primo piano nell'impresa di famiglia, coltivando relazioni con grandi personaggi della politica come Craxi, Fanfani, Rinaldo Ossola e Andreotti, che frequentavano la sua casa turinese in crocetta, così come quella di Portofino, e con uomini di economia come l'avvocato Gianni Agnelli, Cesare Romiti, Gianluigi Gabetti e negli ultimi anni anche Sergio Marchionne. Importante fu anche il legame con Adele Salam Jaloud, braccio destro di Gheddafi. Ma Marida Recchi, una delle poche donne a riuscire a farsi largo in un mondo dominato da figure maschili, fu anche celebre per il suo impegno sociale verso i più poveri e bisognosi. A partire dalla lunga e appassionata attività di volontariato nella Croce Rossa italiana, fin dal 1937 e poi dal 1948 l'Operapia Pro Infanzia Dere Licta, mentre nel 1950 aveva fondato la Lega Antipolio Mielite e fu tra coloro che portarono in Italia il vaccino antipolio. Come moglie e madre ha patito anche dolori terribili per aver perso troppo presto il marito e due dei suoi cinque figli, forse i più amati, Enrico e Alberto. Nel 2008 Marida Recchi era stata premiata come Torinese dell'anno, un riconoscimento che aveva come motivazione l'aver saputo coniugare uno spiccato spirito imprenditoriale a un forte senso di generosità, profuso non solo nell'ambito della propria impresa ma anche in ambito sociale, con un'intensa attività benefica e assistenziale, un riconoscimento che l'aveva sinceramente meravigliata, tanto da commentare forse si è voluto premiare il mio grande amore per Torino, che sento sempre ricambiato. Per capire l'impegno profuso verso l'impresa e la comunità basterebbe uno dei tanti aneddoti da lei ricordati nel corso della sua vita. Un giorno si sentì male un caporeparto, la moglie voleva chiamare l'ambulanza e lui gli aveva detto di chiamare Marida perché sapeva sempre cosa fare. Per me fu una grande soddisfazione, non bisogna mai smettere di aiutare, in ogni momento ci vuole serietà e rispetto.